Cara Ussi, perché invece di rompere le balle a GTV Zuliani, a Claudio Zuliani, non rompi le balle a questo, a Paolo Zuliani? Che da sempre infama, infanga la Juventus con il discorso ondrangheta quando siamo stati assolti, i nostri dirigenti sono stati assolti e poi tira fuori questa cosa, io spero davvero che almeno la moglie di Scelea intervenga perché questa è una cosa allucinante si tira fuori il nome dello stadio con l'ignoranza che si ha perché il nome dello stadio non si sa o si fa finta di non sapere che è stato lo sponsor a deciderlo e non è stata la Juventus vabbè, è ufficiale lo stadio della Juventus e si chiamerà Allianz, il capitano Scelea morto mentre lavorava per il club dal cielo ringrazia cioè questo qui è come quelli che tirano fuori i morti dell'Israel per attaccare la Juventus strumentalizzare i morti per attaccare la Juventus, quanto schifo mi fai, quanto schifo mi fate è davvero una vergogna, io spero davvero che società, la moglie Scelea e quant'altro interveniate perché è uno schifo, abbiamo fatto una giusta guerra contro una radio che è la stessa che ha augurato morti ha augurato che precipitasse l'aereo nostro al ritorno da Cardiff, dei nostri giocatori ma è giusto anche denunciare queste cose, perché queste cose anche nel web, le cose scritte rimangono e sono ancora più gravi a mio avviso rispetto a quello che scrive, perché lui è comunque un personaggio pubblico perché ha la spunta blu, quindi queste cose le vedono tutti a me mi ha bloccato da anni ormai, perché purtroppo è un po' come i pistocchi insultano, denigrano e quant'altro e poi bloccano, poi quando invece come pistocchi e quant'altro ce li hanno davanti, ce li hanno in tv i tesserati della Juventus si cagano sotto, non hanno le palle di dirgli le cose che pensano in faccia gli basta scrivere su Twitter, questi sono i classici leoni da tastiera questi sono i classici che rovinano il nome del giornalista va bene? perché poi ci vanno di mezzo tutti ma per colpa di questi individui e qua questa cosa è davvero grave è ufficiale, lo stadio da Juventus si chiamerà Allianz il capitano Shirea morto mentre lavorava per il Grab del Cielo Ringrazia questa è una cosa davvero grave detto questo ragazzi, voglio solo denunciare questa cosa qui buona serata a tutti, io spero veramente che la moglie di Shirea intervenga almeno lei, un saluto a tutti e forza Juve grazie grazie